Musica Musica Non posso darlo via Lo uso tutto Quasi la metà delle mie cento cose è tua. Orso, non posso darlo via. Mi serve per gli incoli, ma... ...i funzionari. Bruta gente. Frego il tempo possibile. Ci sto provando, ma non è facile. Ho freddo e mi annoio. Ma purtroppo ho una saluta di ferro e prevedo di annullarmi già nata da parecchi anni ancora. Cosa vuoi? Come sarebbe? A chi tocca ora? A noi? Venite avanti. Oggetto ceduto. La tazza. La tazza. La tazza. La tazza. La tazza. La tazza. Composizione. Materia. Porto, fai già tutto il porto. Ma lei deve dirmi la tipologia di ceramica. O non sono utilizzato rilasciare alcun documento. Non sa come si chiamava quel tazza? Ripostiglio. La tazza. La tazza. La tazza. La tazza. Ma lei deve dirmi la tipologia di ceramica. Ma che serve un disco se non hai niente per fare o suonare. Il materiale sarà sul lato dell'esposizione e della tecnologia a evoluo per aiutare, ma non può essere cambiato da schieno non d'aile.